Garba dell'Andia, viva viva la pace! Questa è una bozza della favola per i diritti dell'infanzia. Come saprete tutte, care educatrici, il 27 maggio 1991 l'Italia firmò la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia nata il 20 novembre 1989. I bambini nella passeggiata riceveranno una bacchettina magica fatta con materiale riciclato, con i colori, vedete, della pace. Naturalmente le bacchette ora stanno dormendo perché sognano la pace. Come costruire la pace? Allora, come si può costruire la pace e insegnarla ai bambini? Intanto, con la fantasia e con la collaborazione, un po' di tutte e tutti. Sarebbe bello appendere alle finestre una bandiera della pace. Vedremo se ci riusciremo a convincere bambini e genitori. Intanto dovete sapere che alla Fontana Carlotta sono arrivate otto scicogne. Otto scicogne della pace. Hanno le ali colorate, sette, otto, sette o sei colori. Poi la bandiera della pace ha varie modifiche fatte grazie alla fantasia che non si compra al supermercato. Questi, come potete vedere, sono i garbasorciotti. E c'è un motivo. I garbasorciotti sono disegnati sul cartone. Perché durante la pandemia il cartone è aumentato perché la gente ordinava le cose a casa, visto che non si poteva uscire. Ma il cartone è prezioso per un messaggio. Con il cartone, senza fissa dimora, si fanno le case perché il cartone previene anche un po' dal freddo. E poi il cartone, se si brucia, riscalda. Intanto andiamo in breve alla favola. A Garbatellandia arrivavano le garbasorciotte e garbasorciotti. arrivavano da ogni dove, volavano ovunque, perché volevano mandare una serie di messaggi. Il messaggio più importante era quello di illuminare le strade per la pace nel mondo. Fada Garbatella li incontrò che stavano bevendo presso la fontana Carlotta e chiese loro «Come mai state arrivando a flotte?» Risposero quasi in coro. «C'è bisogno di una favola per la pace nel mondo?» «È vero, c'è bisogno di una nuova favola. Siete venuti qui ad aiutarmi?» Rispose Fada Garbatella. Un garbasorciotto rispose «Veramente prima dobbiamo parlare con le cigogne della pace. Loro volano ovunque per i cieli del mondo e ci possono dire veramente com'è ora la situazione». La garbasorciotta più giovane si fece coraggio. Alzò una zampetta e disse «Posso dirti una cosa anche io?» «Certo» fece Fada Garbatella incuriosita. La piccola garbasorciotta continuò «Siamo un po' preoccupati perché troppi sorrisi tristi vediamo un giro per il mondo in questo periodo specialmente sulle bocche dei bambini e delle bambine». «La garbasorciotta non fece in tempo a finire la frase che si sentì un vento sempre più vicino. Uno svolazzare di ali ed arrivò una cigogna proprio sulla scalinata di via Orzucci. Planò sull'anfora e nel becco portava un involucro con i colori della pace». «Perché sarà arrivata questa cigogna?» «Andremmo a scoprirlo». Dopo pochi secondi arrivarono altre sette cigogne. In tutto erano otto. Avevano le più per cobaleno. Le sette cigogne si posarono sul bordo della fontana. Bevero tre sorsi ognuna. E poi sorrisero a tutte le presenti e tutti i passanti che incuriositi si erano fermati a guardare questo strano spettacolo. Poi le cigogne sbalordirono la gente che si era radunata a loro intorno perché si sparsero chi sul muretto, chi sulle scale e quasi incorodissero. Dissero «Bisogna scrivere una nuova favola con urgenza, la favola della…» Ma vennero interrotte prontamente dall'ottava cigogna. «E certo, quella era arrivata prima. E che prima arriva meglio alloggia. Era lei poi che guidava un po' tutte le altre cigogne». «La favola si chiamerà», disse la regina delle cigogne. «La favola si chiamerà «Viva la pace! Ci aiuteranno le bambine e i bambini e il popolo dei garbasurciotti e delle garbasurciotte». «Però è Fada Garbadella che adesso deve pensare a promuovere questa favola vivente». «Veramente ci sto pensando da giorni, ma non so come cominciare», rispose la fada visibilmente preoccupata. «La cigogna che era sull'anfora, che poi, come abbiamo già detto, è la regina delle cigogne della pace, disse «Ma non è difficile, non è assolutamente difficile». «Continua a farti aiutare dai garbasurciotti, sempre sulla scalinata di Carlotta. E devi dire a tutta l'infanzia della Garbadella e dintorni di guardare su in alto, verso il cielo. Noi cigogne registreremo la loro voce e la porteremo in giro per il mondo. Basterà che loro alzino i loro visetti e cantino forte, forte, «Viva, viva la pace nel mondo!»» «E la favola si scriverà da sola. Non dimenticare che questo luogo, la Garbadella, prima di chiamarsi Garbadella, si chiamava Colle della Pace. La musica unisce e fa bene cantare insieme». Il garbasurciotto più giovane disse timidamente, «Fa da Garbadella. Chiedi a tutte e tutti di appendere alle finestre la bandiera della Pace, e la Pace sventolerà silenziosamente e farà veramente magie di pace!» E poi tutto d'un tratto le cigogne, dopo aver fatto i tre sorzi dei desideri alla Fontana Carlotta, volarono in alto e scomparvero alla vista di tutti i garbasurciotti. E Garbasurciotte dissero, «Noi vi salutiamo, tra un pochino andiamo a cercare le bambine ed i bambini per cantare insieme, viva, viva la pace!» «Fa da Garbadella mandò subito un messaggio al comitato delle fate coscritto, «Fate sventolare ovunque e comunque la bandiera della pace dal vostro magico castello e fattelo fare anche alle vostre amiche e amici!» Intanto, sulla strada di Porto Fluviale, i navigatori e le naviganti riprendevano il cammino e si fermavano. Dove si fermavano? E si fermavano dove c'era il pesciolino rosso? Guardate bene, questa è la bozza. Vedete, ci sono delle correzioni. Allora, si fermarono a parlare con il pesciolino rosso che è disegnato da chissà chi sul muro magico. «Di dove? Eh, indovinate un po', guardatelo bene, care educatrici. Si trova? Allora, si trova su via, su una strada che porta al Porto Fluviale». Il pesciolino rosso disse «Ma non dovete continuare la favola, quella lì degli auguri di Garbatella 102, quando le cigogni sono andate a bere alla Fontana Carlotta e ancora non avevano le ali disegnate con i colori della pace?» Sentire la volezetta di un pesciolino rosso disegnato da chissà chi fece cambiare idea alle naviganti e ai naviganti. E fecero tutte dietro fronte e si avviarono verso la Fontana Carlotta, perché era lì che bisognava andare, era lì che c'era il seme della fantasia da seminare e da annaffiare con l'acqua di Carlotta. Nel frattempo però stavano arrivando due galline spennacchiate che correvano, correvano e volevano farsi scambiare per le galline zampanuenze. Ve le ricordate? Quelle che hanno scritto la vera storia della Garbatella insieme alle volpi, perché sono amiche. Ma all'improvviso sentirono gridare «Tana! Tana!» Era lui, Garbatellocchio. E con l'arrivo di lui tutti capirono che era nata la nuova favola. La nuova favola che era il seguito della rivolta di Fata Garbatella, che era la rivolta che era al seguito di Garbatellandia, quella di Pitocchiella, ed era il seguito della decima musa. Ve le ricordate queste favole? Fata Garbatella ve le ha regalate. A presto!